Domenica 1 agosto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, sarà al sacrario militare sulla cima del Monte Grappa per l'annuale cerimonia internazionale in memoria dei 23.000 soldati di diverse nazionalità europee caduti durante la Prima Guerra Mondiale e sepolti proprio nel cimitero monumentale italiano e austro-ungarico. Un evento che si unisce ad un'altra importante ricorrenza, visto che quest'anno si celebra anche il centenario del milite ignoto tumulato nel saccello dell'altare della patria, la cui quarta salma tra quelle designate è stata scelta proprio tra i caduti del Monte Grappa. La giornata di domenica avrà inizio alle 8.30 alla presenza, oltre che del generale Figliuolo, anche del ministro Erika Stefani, del sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, di autorità civili, militari, religiose e dei sindaci del territorio. La funzione religiosa sarà ufficiata da Monsignor Luciano Capelli, vescovo delle isole Salomone.